La Federazione Italiana Medici Pediatri Puglia ha organizzato anche quest'anno Children al Nicolaus Hotel di Bari. Affidate ai relatori di fama internazionale le relazioni della due giorni di lavori all'insegna e dell'aggiornamento continuo professionale. Quale impatto sulle strategie vaccinali e sulle coperture nell'infanzia? Come comportarsi per tutelare la salute dei bambini e fronteggiare il diffondersi del virus in questo delicato contesto di pandemia? Con l'inizio della scuola siamo fortemente preoccupati, soprattutto in quella fascia d'età fino ai 12 anni che non è potuto ricevere il vaccino. Secondo noi ci sarà un picco dei contagi tra i bambini molto 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 alto, perché già oggi che la scuola non c'è stiamo vedendo parecchi casi. La cosa che ci preoccupa è che non vediamo al momento sistemi per cercare di arginare queste situazioni dove si presentino. Faccio un esempio, i sistemi sono molto semplici, sono dettati tamponi, 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 dove ci sono i positivi, isolamento, quarantena, non c'è altro da fare. Non abbiamo al momento un sistema di tamponi efficace, i ripartimenti a volte non si riesce neanche a contattarli, fanno il tampone dopo diversi giorni. Io faccio un esempio semplice, un bimbo ha la febbre, ha la tosse, deve essere visitato dal proprio pediatra, deve fare il tampone e poi va in studio. Un bimbo deve andare a scuola a qualche segno leggero, bisogna fargli il tampone, perché stiamo vedendo nei piccoli dei segni di comit veramente sfumati e poi sono positivi. Altro esempio, un bimbo deve rientrare a scuola dopo una banale febbre di un paio di giorni, deve fare il tampone. Come fare? È semplice per noi. Noi abbiamo dato una grandissima disponibilità alla Regione Puglia, vista l'esperienza dell'anno precedente. I pediatri di famiglia sono pronti a fare i tamponi nei loro studi ai bambini. Creeremo percorsi differenziati, orari differenziati per mettere tutto in assoluta sicurezza e potremo garantire con dei tamponi di alta affidabilità, perché ormai parliamo solo di variante Delta, quello che andava fatto sin dal primo momento. Spero che la Regione Puglia ci dia una risposta positiva. Noi siamo pronti.